la nostra amica lì elena ed io sono i protagonisti di oggi ciao a o elena come stai elena 5 inizia un viaggio 4 andiamo giù per la grotta 321 allora è lei la vedo prende per mano con la sua mano sinistra prende la mano destra di una ragazza bionda coi capelli lunghi che ha un vestito tipo quasi di tulle molto lungo azzurrino e la porta davanti a questo come se fosse un cinema all'aperto dove ci si siede però per terra e questo cinema all'aperto proietta tipo le stelle tipo quasi come se fosse una aurora boreale ti dà autorizzazione lì sì ok e cosa ci sta mostrando è come se volesse mostrare a questo ragazzo comunque a tutti ea se stessa potrebbe essere che lei potrei dire che è la sua ps che vuole mostrare a se stessa la verità come funzionano le cose e quindi questo sta facendo non ho capito le mostra come funzionano le cose la verità e le mostra lei che si prende per mano una ragazza bionda sì praticamente la ragazza bionda allora è sia la ragazza bionda ok ed è nello stesso tempo è come se fosse la sua ps e le altre sue parti cioè lei stupiata sì cioè la ragazza bionda la ps e lei non è la ps non è la ps e la ragazza bionda rapie la p e se cose che vuole mostrare fa vedere come la verità nel senso come funziona tutto come funzionano tutte le varie parti tutte le varie dimensioni la parte la sua parte emozionale cos'è in questo momento la sua parte mentale le interferenze tutte le dimensioni eteriche il campo energetico volevo è come se questo fosse il cinema ecco della sua sessione città l'autorizzazione sembrazione 16 miliardi consapevolezza 121 ps 46 vite precedenti niente 328 cervello 9.10 9.9 la vicino a 10 quindi è venuto 9.10 entità eteriche allora c'è direttamente odino c'è il tuo amico no fiondo sì vabbè andiamo di potere a no una mantide è un falco uniforme di qua no sì con il fuori come se fosse il braccio destro di odino poi basta di l 2 e mentali ma ce ne sono due allora ce n'è una di livello 2 una di livello 5 quella di livello 5 fa sì che lì sia se sia rimanga come se la facesse rimanere su su uno stesso binario di idee nel senso che come se le facesse vedere una sola opzione rispetto a una determinata cosa no quindi una sola strada sì ogni volta che esatto una sola strada quindi se lei vuol far qualcosa che so andare da un posto a un altro dove ci puoi arrivare o in macchina o in treno o in aereo a lei è mostrata solo l'unica soluzione che è che ne so la macchina se lei vuole conquistare una donna ci sono mille modi la pazienza il corteggiamento l'irruenza la sorpresa e lei vede solo una strada esatto quindi finora per tutta la vita a seconda delle cose ha seguito un'unica strada buona opzione ma un'opzione esatto la 2 è questa è quasi una un paradosso è quasi un paradosso proprio nel senso che questa entità mentale 2 rispetto al suo senso di solitudine no di sentirsi sola rispetto agli altri allora questa mentale fa sì che aumenti allora più lei ha le persone vicine e più questo senso di solitudine aumenta le fa fare proprio questa cosa solitudine inversa l'esatto oggi sono colui che battere fa battesimo delle entità mentali si è proprio l'immagine proprio questa più le persone sono cioè come se lei lei si sente questa entità mentale fa sì che lì si senta meno sola se lei a spingersi verso le persone se le persone si spingono verso di lei lei si sente più solo solo che quando si spinge verso le persone c'è più fatica c'è più sforzo non non è detto che non è garantito risultato esattamente quindi è per questo che viene ostacolata in questa maniera sia che le persone siano amici sia che le persone siano potenziali partner se anche i familiari anche per i familiari funziona così possiamo dire dove abiti sì come mezzo come regione ok la sartegna stanno parlando no perché importante la questione dell'isola se di island no ok ci sono impianti sì c'è questo impianto mentale che è tipo una rete c'è è fatta da quattro come se fosse quattro cavi che hanno un vertice al centro e sono collegati alle due orecchie ai due occhi e si collegano appunto questa piccola sfera al centro della testa devo dire che la sua sensibilità di utilizzo del cervello che evidentemente palesemente più alta degli altri viene molto limitata da questo impianto quello che posso vedere è che senza questo impianto potrebbe utilizzare il suo cervello costantemente di base a undici e mezzo quindi già tra pochi minuti e alla fine di questa sessione 11 e mezzo che già 99 non è male infatti è già da primi della classe 11 e mezzo stiamo volando poi c'è l'impianto mentale quindi una specie di di ragno a quattro zampe se tutte da un lato perché sono in avanti se c'è dall'alto sono tutte di qua davanti esatto poi c'è un'altra rete che però e tiri questo impianto è terrico ma crea anche qua una rete che è proprio collegata a tutta la diciamo dal collo fino al bacino e fino al bacino a tutta una rete che è collegata a tutti diciamo tutti i punti nervosi della del busto quindi vedo proprio che è come se ci fossero dei punti lungo la colonna vertebrale e da lì partono dei cavi collegati alle terminazioni nervose sul busto e mentre per le braccia e le gambe c'è un unico filo tipo che arriva fino all'articolazione delle caviglie e qui all'articolazione dei polsi si è l'unico modo che hanno avuto per limitare la sua funzione cerebrale a quest'ora avrebbe fatto avrebbe sviluppato tranquillamente molte capacità medianiche causa esoterica della dell'abbandono frequente nella sua vita sindrome diciamo da abbandono no è proprio questa entità mentale di livello 2 che adesso è di livello 2 in questo momento è di livello 2 perché non ha aumenta quando lei ha una relazione quasi l'opposto no devono ostacolarla di più quindi ogni volta che ha una relazione aumenta di grado 34 questo senso dell'abbandono è proprio questo meccanismo no più le persone gli stanno s'avvicinano più le si sente sola e quindi la tendenza è a far qualcosa di diverso per sentirsi meno sola e se si allontana da queste persone e poi sente il senso dell'abbandono solitudine peso stessa cosa sì ok c'è una presunta fiamma andiamo subito al cuore della cosa è la fiamma questa ragazza allora direi che è un anima fine di quinto livello potenziale fiamma un 5 plus sì 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 che rappresenta poco si manca poco c'è proprio questo suo è come se lei mettesse una separazione no in questo senso con quell'entità mentale lei è qui non vorrei dire il nome la veniamo clara clara e qui si è qui già dall'inizio di un esempio dei brividi e non capita spesso è rappresentata da quella ragazza che ha portato per mano da subito ok adesso non sappiamo se c'è bionda mano però rappresenta rappresenta questa clara perché sento dei brividi su questo la questione anima gemella 5 più cioè che lì 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 che non è fatta la fiamma ma ci manca poco come se questo mancar poco fosse un processo delicato da sviluppare con calma senza errori no si è più allora quello che vedo subito è come se lei dovesse ti descrivo la scena perché molto difficile tradurlo in parole vedo dopo questa sessione senza più muri ok li potrà amalgamare le loro due ps utilizzando le queste specie di archi che vedo che crea con il suo cervello in automatico ok che creano questa onda energetica ok che farà vibrare le loro due ps all'unisono ovviamente con l'altra persona che le accoglie ovvio però proprio è come se lei creasse da qua vedo proprio questi archi energetici ok vibrazioni e si amalgamano una nell'altra penso che i tuoi brividi siano quelli perché sento anche una energia è una sensazione molto avvolgente e molto alleggerente come se fosse una bolla che porta in aria ma questa caratteristica di lì è quando lei c'è attribuibile alla persona altamente sensibile stesso sì quindi è una capacità medianica se si chiama così ma di getto multi con molti connessione si molti connessione io vedo proprio che mentre lei lo spiegava vedevo proprio che è come se avesse tanti sportelli separati nel cervello che ognuno si collega a un aspetto di quella situazione di quindi lei ci parlavano che sente varie cose registra vede registra anche l'espressione di altre persone che vede in giro quindi è proprio come se ci fosse un cassettino per ogni pezzo della situazione lei registra nella testa ogni cosa quindi se qualcuno dovesse andare a chiedere a chi c'era in quel locale quel giorno anche se lei guardava in una certa direzione contro il muro metti lei potrebbe descrivere esattamente quello che c'era dietro perché va di pescare i vari le varie informazioni ai vari aspetti ok chiamiamola clara nel cinema già si sia in quel cinema listellato ok io faccio un po questa feste ci sono delle altre fiamme grezze visto in questa quasi è lo è ce ne sono tre dove se mi dici mongolia sudafrica e cile sperduto capisco che no allora allora una è in grecia una direi marocco mi viene l'altra tipo finlandia vabbè sarli ha detto a casa non sono no mentre clara e a 25 50 chilometri più ok come la vedi come vedo clara o lì nel cinema no no sì 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 la vedo molto intensa a osservare questo cielo stellato quindi molto intenta a osservare i particolari e a mettere unire particolari molto intenta a prendere le informazioni ad accoglierle molto coinvolta la vedo è come se il cuor suo lei non capisse c'è ancora non capisse qual è la vera ragione per cui loro non stanno più insieme ovviamente avrà le sue interferenze le cose che sono successe sono collegabili all'interferenza sono anche un po pesato cose leggere non mi sembra di capire quindi non vedendole non ha accettato ma non trova una ragione profonda ci sono vite insieme lì e clara allora subito sono arrivati erano due fratelli e me li mostra in questa scena tanti anni potrebbe essere fine ottocento li vedo vestiti no tipo tipici si sa comunque i gili abbastanza eleganti con quel gilet molto allegri che prendono questo treno mi fa vedere appunto durante mentre sono su questo treno e poi questo treno si ferma e scendono questa fermata c'è scritto lincoln sulla fermata poi questa è la prima volta che si sono viste è la l'ultima prima di questa ok altre altre vedo allora una allora clara è la nonna e lì e la nipote il nipote maschio lo vedo li vedo tipo in campagna elena facciamo una cosa nuova se andiamo tra al momento in cui lì è in un tempo finita la sua scorsa vita e prima di iniziare questa e sta in questo non tempo incontra sta prendendo accordi secondo me mi sbaglio succede qualcosa del genere lei si incontra con le cose più importanti sono incontrarsi con le anime gemelle di quinto quinto livello quinto più e le fiamme grezze le fiamme potenziali quindi c'è lei che si fa delle riunioni animali con altre ps prende degli accordi tulano e noi adesso possiamo noi vediamo come va forse poi facciamo facciamo un grande salto tu e di oppure lo faccio con lei ti vato agli altri programmi è successo questa cosa la riunione delle ps sì quello che per la cosa più evidente che mi fa vedere diciamo la chiacchierata che hanno fatto la ps di via la ps di clara ok è dove lì dice ok ci rincontriamo e clara dice si va bene qual è la loro esperienza importante che devono fare stiamo spessata via ripetiamo si incontrano e si incontrano e tu e tutte e due espongono all'altra ok all'altra ps ognuno per sé diciamo l'esperienza che ancora devono fare che vorrebbero impostarsi in questa vita ok le due singole esperienze quindi cercano di far incastrare l'esperienza di una con l'altra in maniera tale che l'interferenza in certo punto che loro riescono a superare le interferenze e riescono ad incontrarsi ok nei vari accordi quello più forte secondo me esseremo entrambe sarde ha certo sì sì questa vita era allora quello che posso vedere di loro è che hanno deciso di cercare di arrivare a vivere a vivere assieme come copie come fiamme in questa vita ok quindi hanno cercato di mettersi le loro esperienze in maniera tale che fossero c'è alcuni aspetti fossero comodi e agevoli per essere fiamme e tra cui appunto essere sarde ci sono degli uomini del tempo in questo caso no sì ci sono in clara al star di lì a cosa serve cosa fa lo scemo biondo che vuole scemo biondo vuole cerca di utilizzare la sua praticamente lo scemo biondo ha come scopo limitare l'utilizzo del cervello di lì ok impostando diciamo facendole credere che alcune impostazioni della sua vita sono verso il suo benessere invece in realtà alcune cose la limitano è come se lei si sentisse arrivate in alcune cose in realtà sono proprio la la scatola per limitarla e questo lo fa a star c'erano utilizzando la limitazione sulla sua sensibilità cerebrale ok l'amantide cosa fa allora l'amantide la maglia potrei dire nel senso che le fa le fa credere alcune cose per deviarla nelle scelte soprattutto la vedo legata molto all'entità mentale di livello 2 quindi è quella un po che le suggerisce a volte che alcune cose che accadono sono quelle che la fan sentire sola e invece nella realtà è proprio l'opposto sarebbero se lei le vedesse per quello che sono realmente vedrebbe che sono le cose che invece la fanno sentire molto accolta mentre l'amantide riesce insieme all'entità mentale di livello 2 farle credere che sono quelle da cui si deve staccare per non sentirsi più sola il falco il falco quello che un po crea alcune situazioni di ostacolo per esempio potrebbe essere no quello che proprio crea la situazione concreta materiale che ne so devo fare arrivare da qui alla in dieci minuti metto dei lavori che bloccano la strada in maniera tale che tu sei obbligato a fare tutta un'altra strada e arrivi ritardo per esempio questo falco uniforme di crea proprio gli ostacoli materiali cosa dicono alle orecchie di lì i due dl allora gli dicono soprattutto principalmente diciamo è come se fosse il disco che sente di solito è quello che proprio le dice staccati da questa situazione legati a quest'altra riguardo soprattutto al suo sentimento di solitudine abbandono e poi questo diciamo ricorrente quasi tutti i giorni e invece l'entità mentale di livello 5 rispetto alla via da prendere interviene praticamente solo quando c'è qualcosa da che non è già presente nella sua vita no quindi se non qualcosa di nuovo che non è nell'abitudine di tutti i giorni ok l'altro dl le dice all'orecchio che quella è la soluzione unica per fare quella cosa lì e quindi si limitano proprio la strada la mona opzione l'antica metà monazione esatto e così per la vista è uguale è come se c'è una situazione da cui vogliono che lei si stacchi è quasi come se mette essere un filtro gliela facessero vedere al contrario proprio il paradosso no quindi che ne so e nero diventa bianco contrario e invece se le lontane io sono mi sento coinvolta quando sono vicine sono sola se non viene da ipotizzare perché non abbiamo tanti elementi ma il famoso san valentino no di fatto lei sembra di aver capito tu hai proposto un po all'ultimo momento giusto una cosa super semplice e non hai con un certo anticipo organizzato magari un so un picnic elaborato una giornata al mare fatta bene prenotando t no quella è la nostra giornata e te la sei molto presa per perché di fatto lei aveva già dato la parola se non sentendoti e non proponendo neanche lei nulla di che si era presa un altro punto un altro impegno con una nipote con una parente effettivamente lì c'è un po ma comune mezzogallo ma come mezzogallo una mezza colpa da parte di entrambe perché se veramente no uno si organizza non vivendo insieme le cose possono avvenire lei potrebbe dire da parte sua è ma tu non mi hai organizzato nulla e quindi non ci tenevi alla giornata e non avevamo capisci e con questo vi voglio dire voglio concludere chi se ne frega di questo fatto ovviamente ma il concetto di base è questo prima abbiamo detto a stare tu li hai fatto la faccia come dire gusto maledetto attenzione a star l'hai voluto tu a star è una piuma perché è un programma tu sei un'anima tu sei quella che crea tutto a stare un granello di polvere che ti serve perché devi capire delle cose quando l'hai capito astra lo prendi lo giri lo sposti lo butti e tu sei la creatrice quando diventi la creatrice ora crea anche l'appuntamento crei tutto le interferenze le spazi via in un secondo me a maggior ragione giocato a maggior ragione o un cane a maggior ragione dopo questa sessione in cui veramente sono via ma tutte le interferenze possono tornare se noi lo vogliamo perché noi le creiamo e siamo creatori quindi il concetto è sempre lo stesso lì ed io e clara ed io oggi facciamo la sessione per lì quindi è lì che capisce molte più cose di clara no clara l'ha sentita questa cosa sì quello che li ha visto mentre tu dicevi questo anche appena prima poi diciamo la vista molto più chiara mentre tu parlavi è proprio che questo queste interferenze che si è scelta con questo paradosso fanno sì che lei sembri quasi superficiale rispetto soprattutto quanto riguarda la relazione di coppia ma anche con gli amici ma la relazione di coppia quasi come se le volesse essere superficiale quasi come se non volesse impegnarsi del tutto no perché questo paradosso che la fa staccare all'esterno da quest'idea qua e quindi le persone a volte vedo clara che dice questa cosa la dice a volte è quasi come se io sentivo è che tu calino in africa niente sembra che sembra questo sembra questo quindi è studiata bene è studiata l'entità che sono state che ha voluto lì che sono stata hanno avuto il mandato da lì come ps per capire una cosa che effettivamente è molto complessa ma capita la quale si fa un gran bel salto assolutamente quindi questo significa proprio avere già una consapevolezza avanti essere una ps diciamo matura e avere delle carte in mano notevoli che questa percentuale di cervello automaticamente priva di impianti a 11 e mezzo che è una enorme carta nonché persone altamente sensibile lei questa cosa la chiaramente la la condiziona ma è anche un vantaggio sì allora l'unica cosa lei deve imparare a gestire le informazioni è come se adesso cioè se lei non mette filtri gli arriva tutto assieme ok e quindi è come se ci fosse un casino prima quando di scriveva io la vedevo vedevo la sua testa come se avesse dentro un grosso rumore tutto un baraffollato un caos dice che fanno venire quasi c'è fanno venire mal di testa in realtà lei può creare dei comparti quindi prende tutte le informazioni ma può sentirne seguirne uno alla volta le altre vengono solo immagazzinate e questo è su le da un enorme vantaggio e secondo me questo la rende molto le dà la libertà di essere completamente libera di essere se stessa aperta e di percepire profondamente qual è la strada per lei il fatto che l'entità di livello 5 le facevano vedere una monosoluzione era proprio per questo perché lei invece le può vedere tutte a 360 gradi e bloccandogli questa cosa la tenevano limitata invece da oggi in poi potrà scegliere quella che meglio esatto e vederle tutte scegliere quella giusta non vedere solo una che probabilmente è indotta dall'entità esatto e che probabilmente non è quella giusta o non è quella migliore o non è quella più veloce o non è quella che vuole lei giusto sbagliate che sia che non esiste e non è quella che vuole lei è quella che vuole le di elenco in quel momento le dice ma non ha pensato a te quindi non è esatto templare è stata un templare secondo me non è così importante però vediamo con 2000 rotti vite lei mille tre ok tutto tutti infatti dal cognome da tante cose non lo vedo collegato tanto al cognome nel senso che quasi come se il ceppo da cui lei deriva non non è così direttamente collegato ai templari ha passato qualche vita da templare qualche 2 nel senso che nell'arco quando diciamo è nato questo ordine lei è riuscita a viverne due da templare ma non lo vedo collegato con la spagna assolutamente anzi più roma sì che poi è tempo erano legati al papa quindi essere stati templari siamo una vita che ha dato una macchia in più ma magari anche la macchia meno forse dipende dipende dicendo per alcuni templari erano dei ladri e saccheggiatori davano un posto un gesù gesù dio dio assumete intanto si pigliavano robe e mandavano alla famiglia e diventavano ricchissimi poi un po il papa un po la famiglia vabbè ok e poi il trio tutta la sua vita è dominata dalla da tre persone quindi sembra che lei sia stata concepita mentre il papà aveva una liaison con l'azia la sorella della mamma giusto sola dalla mamma no del papà no come un'altra zia ok un altro novi se mi torna di nuovo quel triangolo quale quello di stamattina al triangolo colloquio l'occhio che tutto vede il simbolo improprio degli illuminati in realtà come dire se vogliamo del state se è più no è come se fosse un una un gancio energetico per tenere sotto controllo delle energie per limitare delle energie ma allora in questo caso la vedo proprio come una limitazione allora se se ci fossero solo due persone potenzialmente possono arrivare a essere la copia perfetta quindi fiamme no in questo caso se c'è un triangolo c'è una dispersione di energie perché allora prima di tutto quell'energia lì con diciamo il conflitto viene molto diminuita quindi le vibrazioni si abbassano tantissimo no e quindi poi viene dispersa anche nel conflitto nella lotta nella nella rivalsa anche se magari in questo caso la terza persona e la nipotina comunque esatto perché è comunque un come se fosse l'interferenza nell'unione perfetta ecco diciamo che sono due tubi d'acqua che si devono incontrare in un punto ma se uno ha un buco lì e da lì esce la buco la nipotina di lì esce l'acqua e il flusso non arriva al centro insomma l'incontro ok ma c'è una sorta di tipo tarra familiare li ha fatto dei test no si si non dà tanto nel senso che io lo vedo dai suoi genitori in giù prima no e perché lei ha aderito perché l'ha detto sì ls scelta questi due genitori con quelle caratteristiche quindi il momento in cui le ha scelte ha detto va bene anche questo è male tale familiare non dipendono però dei genitori che si scelgono si devono comunque accettare se sei fatti infatti perché lei l'ha accettata perché le serviva per fare questa esperienza rientra sempre allora come se questa domanda mi mi dà l'occasione per spiegare questo aspetto no è come se la ps quando sceglie le sue esperienze cerca diciamo il luogo ideale dove per quell'esperienza può trovare la maggior parte di variabili per poter fare con l'esperienza lì diciamo in toto ok quindi anche questa cosa qua del triangolo rientra nell'esperienza della solitudine abbandono ok perché non lei non si trova a non essere mai l'unica persona a da ricevere le attenzioni e quindi aumentare il suo senso di solitudine abbandono è un'altra caratteristica per fare questa esperienza ok ok beh chiamiamoli i tuoi genitori sono vivi sì nel cinema la zia famosa e viva nel cinema anche la zia invitati ovviamente non piatti messi o la mamma o la zia perché tutto tutti in due non ci stanno e la mamma no perché se una rivalità è la prima cosa che più la zia e l'ha detto sì cioè come è quasi come se la mamma avesse convinto il papà a stare con lei è come se prima c'era la zia e poi la mamma ha convinto papà a stare con lei con la mamma e a sposarla ma che fanno rimane la mamma e papà e rimane la colonna vertebrale sistema nervoso difettoso causa esoterica io vedo che è tanto attivato da quell'impianto eterico a rete che hanno messo in tutto il corpo e soprattutto a livello del busto proprio con queste microsfere a livello della colonna con questi fili che arrivano a tutti i punti nervosi principali del del tronco ea che poi il proprio appunto quello di ashtar sharon di farle arrivare diciamo tenere sotto controllo i suoi movimenti insieme a tutte le altre interferenze per far sì che lei prenda prenda sempre quella una la monostrada ok e che tenga lontane le persone va bene chiamiamo nel cinema gigantesco adesso il cinema tutti i sardi che vogliono venirci in questa sessione ci sono c'è una parte delle dinamiche che si svolgono in sardegna e nell'isole diciamo dinamiche sociali dinamiche comportamentali e poi li chiamiamo così mostriamo loro anche un po' quello che succede sotto la sardegna basi nato delle belle riunioni di navi nel sud di questi di questa fine primavera 2022 chiamiamo bimbo matto bombarolo che poi sono io con mano un sacco di ad eterno pronti 1 per ogni base nato sarda lo mette scappa e lo può togliere solo lui nessuno lo può togliere lo mette scappa lo mette scappa la mente scappa ha messi tutti quanti ne ho messi 28 solo allora anche non basi nato va di tutti tipo di tutti i tipi sotterranei 300 ok vuoi fare bimba matta bombarola anche tu bello intanto mentre le crei uno e lo metti mentre nei corretti si vede come lo fai ad eterno non vuole mettere uno anche lei si mette uno al centro con l'intento mentre lo crea mette l'intento nella d'eterno che si fa sì che si diffonderà in tutta la sardegna sia in cima che neanche nella profondità della terra tutte le coste tutto ok un po come su un impianto no copia adesso interferenze lo fa con loro beh se deve imparare qualcosa delle interferenze impariamo le e impariamo le queste interferenze solo usando le armi delle interferenze le combattino che l'arma delle interferenze è quello che ti sta insegnando alla fine se l'ha imparato l'interferenza non serve più e non quindi buttata fuori a calci con rabbia o che cosa mi sta insegnando di preferenza questo l'ho imparato sì cosa servi tu niente vai non mi serve più mai fatti un giro bene cosa vuole fare lì cluster ci va da sola no ha presa per mano e stanno perché la vedo insistente clara la vedo lì che lì che infatti e cioè che è una cosa delicata una cosa che va fatta non si può più rimandare era fatto se fosse in attesa no no esatto è lì che si è infatti cioè non è l'ultima spiaggia no 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 è una roba talmente lì evidente che va presa la mela è matura stacchiamola dall'albero e mangiamocela se no è troppo matura non so un passalucilino se la mangia ma andiamoci lei non può fare niente nel cluster di qualcun altro se vuole può andare nel suo ma dubito che lo faccia però può guardare perché fa lì esatto ma sono entrate nel cluster è aperto portale definitivo ogni vita è un potrebbe sembrare un nulla hop riprende tutti li lancia dentro al portale definitivo ok è chiuso e vediamo se lo fa da solo ha già fatto prima quindi lo sto facendo sta creandolo all'eterno è clara la coppia se ne fa uno per lei bene 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 tiene in mano intanto lì ho fatto vedere se era fermata quindi l'ho fatto vedere gli altri due quindi sta creando anche gli altri due verità se via e la data non veritas lo spiego ali diciamo ad eterno un po specifico che si rifà tutto quello che ci serve sapere la verità delle cose via il cubo è un nuovo uno nuovo nato ieri dunque veritas virtus vita è stato fuori da solo è voleto a creiamo lo che non è b no fatto sì sì ok avatar che portare il definitivo l'avatar si è coperto come se fosse un astronauta e vestito lì lo prende è appunto nel portale definitivo anche qua 3 ad eterno sì un'altra che mette il terzo come ho visto anche stamattina si uniscono si amalgamano e tiene se energie esponenziale fa come quasi se fosse la creazione potrei dire senso che fa proprio fu così e si espande tutti e tre insieme esatto ci sono ancora ci sono ancora odino il suo braccio destro il falco il biondastro l'amanti dei due dl no le due entità mentali no gli impianti mentali ed eterici per esempio mi ragno a quattro zampe sulla testa la rete intorno alla colonna no 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 c'è più a mondo nuova frequenza di lì non c'è più a 195 miliardi allora potenzialmente è come se lei sa ce lo vede lei vede l'immagine che ho e che lei si vede la sua funzionamento del suo cervello davanti ok le vibrazioni e lei sa che può arrivare molto più in alto ma è come se si sentisse giusto per lei di alzarle un po alla volta perché la come se le ricordasse quella la confusione che le viene quando prende tutte le informazioni assieme e quindi come se volesse fare uno step alla volta quindi non le chiediamo di aumentarla questa liberazione no lo sa già sa già 195 potrà diventare 59 1 sì sì tranquillamente quando un paio di settimane 10 giorni due settimane consapevolezza ora e 196 ps 61 vite 983 cervello 12.8 però a quanto può arrivare così se se ne va in mezzo alla natura se stacca il telefono non se lo porta se se va con clara a 18 però e clara dov'è la clara può prendere post liberare al vibrare all'unisono all'inizio non è in grado di fare le stesse cose che fa lì ma riesce a sentire le vibrazioni e riesce ad alzarsi c'è ad alzare vibrazioni come quelle di lì e quindi a amalgamare le loro due energie e questo l'aiuto a tenere le sue vibrazioni alte e aumentare la sua consapevolezza e la sua forza quindi le vedo che vanno a fare queste passeggiate nella natura poi si mettono e insieme alzano le vibrazioni lì potrà essere in grado di c'è io l'immagine che ho in eterico è lì che levita e che sta in aria immobile e clara che da sotto la guarda è come se fossero uniti a livello energetico vedo un'unione la terra se anche se non avanti un indietro che sono una connessione si 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 esatto sono ancora anime gemelle io le vedo già così è tra un po e quindi quando saranno fiamme quando loro saranno fiamme potranno fare questa cosa qua da cosa dipende questo quando loro dipende dal fatto che lì non si faccia fermare dalle interferenze allora le differenze tenteranno di rientrare e lei potrà tenerle lontane magari a volte entreranno la cosa fondamentale che lei non si faccia fermare lei deve andare avanti lei deve muoversi deve essere dinamica quello è fondamentale l'unica cosa che appunto può bloccare la sua consapevolezza il suo unirsi con clara è proprio lo stare ferma ed è quello cui punteranno l'interferenze ok la cosa è lei deve ricordarsi tutte le volte che non c'è una sola soluzione se lei vede una sola soluzione è quello può essere il campanello il campanello d'allarme che qui c'è lo zampino di qualche interferenza che cerca di interferirla possiamo creare di una solita esatto e parisa esattamente il mondo delle interferenze quindi è normale che ci riprovino esattamente siamo quelli che vogliono essere puliti e l'indie candidi forever senza muovere un dito sono dei puri amanti dell'utopia e muri illusi e anche pigroni perché la s è venuto qui nel mondo delle interferenze per gestirle per viverci insieme e gestirle se le vuoi bene se non le vuoi non le hai ma quelle ci provano ci sono anche con te elena con me si assolutamente sempre io ripeto sempre se ne fregarsene 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 è una delle armi migliori che poi è un po come ammettere la propria grandezza la propria il proprio regno io sono il re del mio regno non c'è né non c'è ma non c'è se non c'è forse è così e basta e ok quindi ci riproveranno benissimo eccetera ma adesso i messaggi li abbiamo dati messaggio finale della ps di lì e immagine finale tra lì e clara allora l'immagine della ps di lì è proprio l'immagine di lì ok e queste con continue evoluzione energetica intorno a lei che continuano a creare del come se fossero dei petali tridimensionali intorno a lì di continuo molto dinamici e questa è la sua immagine quindi a 360 gradi lei si muove adesso con questa energia continua dinamica che va dall'interno all'esterno quindi tutto la sua esperienza è come se venisse filtrata dalla stella dall'energia della vibrazione della sua ps lì e clara allora li prende clara per mano e poi le prende l'altra mano e poi l'abbraccia e con questo abbraccio spiccano il volo quindi questo è quello che fa vedere clara lì a clara se tu mi dai la tua mano e mi segui riusciamo a spiccare il volo ecco il senso è questo qua ok facciamole mettere una d'eterno mi nei suoi cinque corpi fisico mentale emozionale eterico subliminale uno in casa quindi faccio mettere tanti così la gente c'è la gente le ps si allenano uno dove lavora uno nella sua macchina uno in quella spiaggia che ha citato prima dovevo da mangiare il panino a ogni punto no ogni ma proviamo e uno lo può offrire a clara a un pacchettino di foglie lei apre le foglie cara l'ha preso e l'ha inglobato insieme al suo beh e direi che può diventare secondo a riproducibili con tutti diventa come se diventa la d'eterno delle fiamme una specie di anello sono fiamme adesso non ancora però potenzialmente è come se creassero insieme la via che possono percorrere e quello può diventare la detta non delle fiamme va bene disconnettiti da tutto e tutti e torniamo